Grandi numeri per il Carnevale di Fogliano della Chiana che dopo lo stop forzato della prima domenica di febbraio a causa del maltempo ha riscosso una partecipazione di persone provenienti da tutta la provincia estremamente elevata. L'edizione di quest'anno, oltre ad avere già attratto l'attenzione di molte famiglie, ha avuto uno sguardo speciale anche nei confronti dei più piccoli. L'inizio della grande, alle 11 avevamo già terminato i 1200 abbonamenti che avevamo prestampato per cui siamo subito ricorsi alla ristampa e uguale so che a luna avevano già finito i biglietti per cui hanno ricominciato a ristampare di gran lunga. I carri eccezionali quest'anno, sono tutti e quattro di una caratura elevata. Quest'anno abbiamo dirottato molte delle nostre forze perché ormai per migliorarsi bisogna fare qualcosa in più, abbiamo dirottato molte le nostre forze verso i bambini più piccoli per cui abbiamo dedicato a loro un angolo di Foiano, piazza Nencetti con Carnevalandia in collaborazione con altre associazioni, ma abbiamo fatto ancora di più, abbiamo cercato una collaborazione stretta con l'ospedale Meyer di Firenze per far sì di aiutare chi ha bisogno. Dopo la prima domenica di stop causa maltempo, oggi per fortuna diciamo ci ha lietato questa giornata meravigliosa e le persone hanno risposto, hanno risposto perché il nostro Carnevale dà dei segnali assolutamente importanti, quindi è veramente bello, è veramente meraviglioso, la gente si diverte. L'associazione Carnevale ha fatto quest'anno una scelta importante che è quella anche di dare uno spazio riservato ai bambini che sta dando, sono passato proprio ora, è pieno di bambini che si divertono e vedere i bambini sorridenti è una soddisfazione per tutti noi. Grazie.